amici di legnano web tv siamo ad esio all'accademia internazionale di ginnastica ritmica dove si allena la nazionale appunto di ginnastica ritmica italiana che ha raccolto tante soddisfazioni questi anni abbiamo qua il direttore tecnico emanuela maccarani dal 1996 dirige appunto la nazionale italiana che ci ha dato tante soddisfazioni insomma come sta andando il lavoro visto che abbiamo un appuntamento importante con le olimpiadi di luglio probabilmente a tokyo ancora non sappiamo per il copino ma deve essere così questo è un anno particolare non c'è bisogno di sottolineare quanto questa pandemia ha messo veramente al palo tutte le squadre nazionali tutti gli atleti tutti gli sportivi italiani ma anche nel mondo noi attendiamo questo evento quale l'olimpiadi di tokyo 2021 oramai con grande volitività devo dire che le ragazze nonostante il fermo nonostante la pandemia si sono comunque sempre adoperate per non far calare quell'entusiasmo quella determinazione necessaria per condurre gli allenamenti con quella concentrazione che ci vuole per poter costruire un progetto come quello olimpico nel nel centro nazionale questo di desio all'accademia internazionale la squadra la squadra la squadra si allena in forma permanente quindi le ginnaste vivono 11 mesi all'anno al centro tecnico e in una sorta proprio di college quindi diciamo che dal punto di vista di questo lockdown soprattutto nei mesi di febbraio marzo aprile in realtà il vivere insieme lontano da casa non ha rappresentato una diversità diciamo un momento completamente diverso dalla loro quotidianità però certo dover continuare a lavorare senza l'obiettivo senza vedere nella programmazione quel risultato che occorre con le varie gare con i vari campionati internazionali le prove di work up che piano piano nella preparazione nell'avvicinamento alle olimpiadi ti danno comunque insomma quella quella sicurezza di capire se il tuo lavoro sta andando nella strada giusta è stato molto difficile quindi il lavoro in questo periodo oltre a quello quotidiano in palestra è stato dettato da tanti momenti dal punto di vista psicologico e morale così c'è stata c'è stata tanta attenzione anche su questo come funziona quindi normalmente la giornata per le ragazze al mattino e poi meglio sempre allenamenti o poi c'è qualche altro momento diciamo dedicato immagino anche allo studio le ragazze fanno due allenamenti al giorno ci sono due sedute di allenamento una la mattina inizia la prima seduta alle 8 e un quarto fino alle 13 e la seconda circa dalle 14 e 30 fino alle 17 e 30 18 dopodiché vanno ritornano in albergo vivono in un hotel le ragazze e gli insegnanti seguono privatamente le ginnaste nelle loro lezioni scolastiche quasi tutte hanno terminato gli studi superiori alcune sono iscritte all'università ovviamente seguono così gli studi da privatiste e dedicano anche alcune ore della serata a quella che è la fisioterapia quindi al ripristino di quelle funzioni che sono necessarie e indispensabili poi per allenarsi abbiamo parlato delle Olimpiadi di Tokyo immagino obiettivo ambizioso visto che la nostra nazionale l'ha fatto sempre bene insomma non è facile poi magari posticipare di un anno quello che era l'obiettivo di questo luglio che purtroppo poi è saltata appunto questo grande evento ma insomma si può fare bene quest'anno la squadra nazionale di ginastica ritmica aveva in tasca il passo olimpico dal 2018 e quindi è stato diciamo un risultato storico quello del mondiale qualificante del 2018 di staccare questo biglietto per questo pass per Tokyo addirittura con due anni di anticipo naturalmente l'ambizione era quella di lavorare in funzione di un podio di una medaglia olimpica proprio perché nel quadriennio ci sono stati tantissimi risultati prestigiosi quali insomma la medaglia d'argento al campionato del mondo di Sofia del 2018 l'oro mondiale sempre nella specialità all'esercizio con le funepali del 2018 il bronzo del 2019 al campionato del mondo di Baco insomma tanti risultati che ovviamente pongono la squadra italiana come una delle squadre da battere però bisogna anche sempre tener presente che i giochi olimpici sono una gara a sé una gara molto molto particolare credo che tutto può essere programmato e costruito però il meccanismo che si sviluppa poi in quei giorni va vissuto va vissuto ed è per questo motivo che va vissuto fino in fondo e bisogna sempre credere e crederci se si vuole raggiungere poi l'obiettivo preposto allora complimenti per tutto il lavoro che ha svolto lei con te le ragazze insomma un boccalupo da parte di tutti gli appassionati sportivi italiani per quello che potrebbe essere e speriamo l'evento importante delle Olimpiadi del 2021 grazie e speriamo anche che il prossimo anno possano ritornare i grandi eventi e quindi tutti i fans e sostenitori della ginnastica ritmica che sono tantissimi e che io voglio ringraziare perché il calore, l'affetto, il sostegno che comunque non è mai mancato anche durante questi mesi è veramente la linfa vitale per le nostre ginnaste per poter continuare a lavorare con tanta passione perfetto, grazie ancora allora il rinvio delle Olimpiadi di un anno come ha influito sul morale delle ragazze perché immagino tante erano già pronte per disputare appunto questa grande manifestazione e come si riesce a mantenere per un altro anno poi la motivazione lo stimolo per allenarsi ancora a febbraio quando è stato annunciato questo probabile lockdown è stato veramente uno shock per le nostre ragazze che però non hanno smesso di allenarsi e l'allenamento si è modificato ponendo ovviamente l'obiettivo su altri aspetti come quello della preparazione fisica come quello della preparazione tecnica volta magari a incrementare un po' quelle che sono le difficoltà dell'esercizio con diciamo l'obiettivo nei mesi primaverili di quello che poteva essere il campionato europeo che era stato riprogrammato per il periodo autunnale e quindi io diciamo che tutta l'estate sono riuscita a lavorare a motivarle con questo obiettivo il problema è avvenuto proprio poche settimane fa quando la nostra federazione, il nostro presidente ha deciso di non partecipare ai campionati d'Europa che si terranno tra due settimane a Kiev in Ucraina proprio per questa pandemia che sta peggiorando e la situazione europea in generale veramente sta peggiorando moltissimo questo ha influito in questo momento tantissimo sul morale, sulle ragazze che hanno creduto in tutto questo periodo di poter comunque testare il loro nuovo programma olimpico in quello che era la rassegna continentale ora arriva il bello perché da qui agli Olimpiadi di Tokyo effettivamente non c'è tanto tempo ma è un tempo che non è ancora programmabile quindi la grossa difficoltà è quella di non poter avere la certezza di fare delle competizioni di poter preparare delle competizioni che sono quelle che ti daranno poi lo stimolo a poter mantenere il gruppo io confido tantissimo in queste ragazze che formano un gruppo molto coeso sono molto in sintonia hanno questo obiettivo di raggiungere alti risultati elevati obiettivi e questo spero che sia la molla che possa portarle fino a Tokyo Perfetto, grazie Allora, siamo con Alessia Morelli capitano della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica come sta andando la preparazione? Avete questo appuntamento importantissimo delle Olimpiadi di luglio 2021 siamo stati allenando sempre molto duramente Sì, è vero non abbiamo mai calato il ritmo dei nostri allenamenti appunto perché il nostro obiettivo è un grande obiettivo che è quello delle Olimpiadi siamo qualificate dal 2018 per le Olimpiadi di Tokyo del 2021 ormai e il nostro grado di preparazione voleva arrivare agli europei che si sarebbero tenuti a fine novembre a Kiev ma che la nostra federazione ha deciso di non prenderne parte perciò continueremo la nostra preparazione appunto per le Olimpiadi Molto sacrificio che fate, molto allenamento fate collegiali praticamente 11 mesi all'anno come ci ha detto il vostro direttore tecnico insomma una vita molto impegnativa però grande passione e poi insomma anche i risultati sono stati molto positivi negli ultimi anni Sì esatto, siamo l'unica nazionale che vive si allena 11 mesi l'anno in un centro permanente quindi questa secondo me è un po' la nostra arma vincente perché diventiamo oltre che compagni di squadra anche sorelle e compagni di vita quindi poi questo ce lo portiamo in pedana e non lo viviamo come un sacrificio ma come una grande opportunità per poi poter volare È stata un po' la delusione poter disputare le Olimpiadi a luglio 2020 immagino eravate già tutte pronte ma adesso si ricomincia insomma siete cariche per la prossima occasione insomma avete anche buone ambizioni Beh sì, lì per lì è stata un po' una grande delusione quella del rinvio delle Olimpiadi però tutto sommato abbiamo preso poi il buono che c'è stato di questo rinvio che è appunto quello di riuscire poi ad arrivare l'anno prossimo con un programma ancora più valido per le Olimpiadi e noi essere più pronte fisicamente e mentalmente Bene, grazie, bocca al lupo e complimenti Allora, siamo con Martina Centofanti Vice Capitano della Nazionale Italiana di Nascica Ritmica grande talento, insomma molto sacrificio per fare questa attività ma la passione è più forte di tutto Sì, sicuramente tanto sacrificio ma come ripeto siamo ragazzi fortunate perché i ragazzi di oggi sognano diciamo una vita così quindi tanto sacrificio ma assolutamente ripagato da tutto il lavoro le emozioni e ovviamente poi anche le medaglie Abbiamo qua anche il direttore tecnico questa attività, abbiamo già parlato prima insomma lei questa mattina ha molto talento ci ha detto insomma che si impegna molto In una squadra naturalmente più talenti individuali di livello ci sono e naturalmente più il livello della squadra aumenta e io ho la fortuna di avere una ragazza così come Martina Centofanti in questo gruppo che oltre alle sue capacità fisiche e tecniche che sono quelle che ogni allenatore vorrebbe che i propri atleti possedessero ho anche la fortuna di avere una ragazza che ha delle capacità di aggregazione di coinvolgimento, di sentimento con le compagnie che riesce così a creare il gruppo, creare la coesione e questo credo che in una squadra fa il 90% del lavoro e dei risultati e credo che questo tipo di vita, questo stile di vita che una squadra nazionale di ginnastica ritmica ha credo che sia di grande esempio, una possibilità di vivere delle esperienze che per i giovani d'oggi sarebbe veramente importante conoscere quindi vi ringrazio anche per esservi avvicinati al nostro gruppo perché avremo magari qualche nuovo fans che segue e conoscere l'attività e le persone che fanno parte di questa squadra è un grande arricchimento Ecco, anche a te chiedo, allora come ultima cosa appuntamento alle Olimpiadi di mandati di un anno quindi insomma a luglio 2021 se tutto andrà bene con questa pandemia ovviamente perché purtroppo abbiamo sempre fatto i conti con questo virus insomma siete belle cariche pronte per darci qualche bella soddisfazione Sì, con questo rinvio non ci siamo persi d'animo abbiamo un anno in più per preparare questi esercizi che sono sempre più difficili quindi sfruttiamo questo anno per migliorarci e per lavorare sempre di più per arrivare più pronte possibile Grazie, allora anche a te, buca al lupo per tutto Ciao